Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La nostra serie sulla Cecenia è arrivata a un momento importante. Importante per la Cecenia sicuramente, ma soprattutto importante per tutto il mondo. Perché diciamolo chiaramente, ciò che vi ho raccontato nelle prime due puntate di questa serie, che trovate peraltro in descrizione nella playlist, era abbastanza sconosciuto. Era passato relativamente sotto silenzio. In realtà nel XIX secolo dei Circassi se ne parlò ampiamente, ma tutto quello che avvenne in Cecenia durante il periodo sovietico in realtà venne quasi completamente nascosto. E probabilmente la maggior parte delle persone, almeno qua in Occidente, la Cecenia non sapevano neanche che esistesse. Nel 1994 però scoppiò la prima guerra di Cecenia. Noi iniziavamo a essere un po' già riempiti di scene di guerra, perché stava già combattendosi la guerra nei Balcani, l'assedio di Sarajevo, tutto quello che abbiamo raccontato qualche settimana fa. Eppure lo scoppio di questa improvvisa guerra, in cui il grande esercito russo invadeva quella piccola repubblica di montagna che si era ribellata, sembrava quasi essere un fulmine a ciel sereno. E ancora una volta un'altra zona, ancora più periferica dell'Europa, si trasformava in un vero e proprio mattatoio. Eppure quella guerra non era scoppiata all'improvviso. C'erano stati anni di scontri, anni di divisioni, che porteranno la Cecenia a chiedere l'indipendenza, a ottenerla quasi di fatto, e scatenerà la risposta della Russia. E sarà proprio di questo, oltre che ovviamente della guerra in sé, che parleremo oggi. E come vedremo, è una guerra che riserva tante, tantissime sorprese. Quindi, come sempre, se non siete già iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati quando esce un nuovo video, sigla e iniziamo a parlare delle cause della prima guerra di Cecenia. Come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, anche dopo il ritorno del popolo cecennio dal cosiddetto grande esodo, o meglio, dalla deportazione a cui era stato sottoposto dal regime di Stalin, anche dopo il ritorno in Cecenia, la situazione non si era tranquillizzata, tutt'altro. Era continuato a essere molto complessa, sia dal punto di vista locale, dove la popolazione cecena si era trovata a essere sì rientrata nelle proprie terre, sì diventata maggioranza, ma senza un vero ed effettivo controllo sulle proprie terre, in cui molto spesso la minoranza slava, russa, ucraina, aveva in realtà maggior rappresentatività, sia a livello amministrativo che a livello economico. Dall'altra parte, la Cecenia continuò a rappresentare una vera e propria spina nel fianco del governo sovietico, con la difficoltà di mantenere il controllo dell'area, la difficoltà, ovviamente, di reprimere alcuni piccoli movimenti di rivolta che continueranno a scoppiare nel corso degli anni, tanto che quel problema ceceno, come lo definivano i sovietici, iniziato negli anni 20-30, continuerà fino all'inizio degli anni 90. La situazione, ovviamente, andò progressivamente sempre più peggiorando quando l'Unione Sovietica iniziò a perdere forza e presa sulle repubbliche vicine. Esattamente come nella Seconda Guerra Mondiale era stata la resistenza del popolo finlandese a spingere i ceceni a prendere le armi, poi in parte anche appoggiati dai tedeschi, sarà proprio il progressivo disfacimento dell'Unione Sovietica che permetterà ad una serie di organizzazioni cecene di pensare che quello fosse il momento buono per tornare ad essere autonomi. La principale di queste organizzazioni, il cosiddetto Congresso Nazionale del Popolo Ceceno, sarà fondato da un ex militare sovietico, Zokar Dudayev, nel 1990. Dudayev era stato un generale dell'aviazione, era stato per molto tempo di stanza in Estonia e aveva lasciato l'esercito proprio nel 1990, man mano che le forze sovietiche venivano ritirate verso la Russia e una dopo l'altra i vari stati, a cominciare proprio dalle tre repubbliche baltiche, dichiaravano la propria indipendenza dal dominio di Mosca. Dudayev interpretò questi avvenimenti come il fatto che finalmente fosse giunto anche per il popolo ceceno il momento di cercare l'autonomia. In effetti già qualche movimento all'interno della Cecenia avanzava a queste richieste, ma c'era un problema. Perché? Perché se gli stati baltici, ad esempio, piuttosto che l'Ucraina, tanto per favore la Georgia, avevano già un'autonomia riconosciuta all'interno dell'Unione Sovietica perché erano repubbliche, stati che facevano parte dell'Unione Sovietica ufficialmente dal punto di vista amministrativo alla pari rispetto alla Russia, questi territori, quindi tutti i territori del nord del Caucaso, tra cui appunto la Cecenia, invece amministrativamente erano sì autonomi, repubbliche autonome, ma all'interno della Federazione Russa. Quindi dal punto di vista prettamente legale non avevano la possibilità diretta nel momento in cui l'Unione Sovietica si disfacesse di assumere una completa autonomia. E all'interno della Russia, che aveva sì una maggioranza di russi, ma è uno stato enorme, con tante minoranze sparse sul territorio e forte ovviamente ognuna delle singole zone, di situazioni come la Cecenia, in Russia ce ne erano tantissime e la Cecenia appunto era semplicemente una tra queste. A Grozny, però, capitale della Cecenia, le cose accelerarono molto rapidamente il 6 settembre del 1991. Infatti, in quel periodo, la situazione dell'Unione Sovietica era ormai completamente esplosa. Nell'agosto del 91, quindi meno di un mese prima, una ventina di giorni prima, c'era stato il tentato colpo di Stato contro Gorbaciov, che anche se era fallito, aveva tutti gli effetti dimostrato che l'Unione Sovietica non esisteva più e lo Stato, per la fine dell'anno, si frantumerà completamente. Per questo, Dudayev decise di tentare quello che a tutti gli effetti era un colpo di mano. Il 6 settembre del 1991, insieme ad un gruppo di fedelissimi, prese d'assalto il Parlamento. Ci furono delle collutuazioni, ci furono degli scontri e alla fine il segretario del Partito Comunista ceceno, a tutti gli effetti capo dello Stato in questa zona, morì. Qualcuno dice, caduto accidentalmente da una finestra, la maggior parte degli storici pensano che fu preso e lanciato dalla finestra. Una defenestrazione che, se vogliamo, è un po' una tradizione quando si vuole iniziare una guerra. Ad ogni modo, Dudayev si ritrovò ben presto a prendere le reddini dello Stato e nonostante lo stesso governo russo e il governo sovietico si rifiutassero di riconoscerlo, indesse per il mese successivo, l'ottobre del 1991, una specie di referendum e elezione. Sostanzialmente in cui si chiedeva alla popolazione innanzitutto di ratificare o meno la sua nomina a capo dello Stato come presidente, ma soprattutto di scegliere se schierarsi a favore o contro la piena indipendenza cecena. Sulla carta questo referendum sarà boicottato, la maggior parte della minoranza russa non si presenterà, la stessa Unione Sovietica dichiarerà apertamente che quel referendum non aveva nessun valore legale, ma nonostante questo il 72% della popolazione voterà e voterà per più del 90% proprio a favore della mozione di Dudayev, mostrando in questo modo che questa non fosse solo la volontà della minoranza, ma che in realtà il grosso del popolo ceceno era pronto a sfidare lo stesso potere di Mosca per avere la propria indipendenza. A questo punto Dudayev inizierà quello che divenne molto rapidamente un vero e proprio dominio personale. Anzi, negli anni successivi cancellerà addirittura tutte quelle organizzazioni democratiche che inizialmente aveva mantenuto esautorando il Parlamento e dal 1993 diventano a tutti gli effetti il dittatore della Cecenia. Nel mentre l'Unione Sovietica non esisteva più e quindi a scontrarsi con la Cecenia per la sua autonomia sarebbe stata direttamente la Russia. La Russia del presidente Boris Yeltsin. Come vi dicevo prima, in realtà la Russia non aveva solo la Cecenia tra le sue problematiche. Pensate che c'erano addirittura 86 diverse province stati repubbliche autonome con cui la Russia tra 1991 e 1992 dovette fare tutta una serie di accordi trattati per definire le differenze autonomie le differenti autonomie. Fu un lavoro molto complicato un lavoro che sarà in effetti portato a termine e che porterà alla firma di un grande trattato il trattato proprio della federazione russa con cui verrà definito per ognuna di queste zone quale fosse l'autonomia dal punto di vista economico l'autonomia amministrativa e quanto invece potesse essere Mosca a governare. Su 86 di questi stati di queste repubbliche 84 firmarono il trattato e l'85esima il Tartastan firmerà poi degli accordi a parte l'anno successivo. L'unica di tutte le repubbliche che si rifiutò di firmare questo trattato che a tutti gli effetti voleva dire rimanere all'interno della federazione russa sarà proprio la Cecenia che continuerà a dichiararsi del tutto indipendente ovviamente non riconosciuta da nessuno. A questo punto i russi iniziarono cercando inizialmente di fare delle pressioni economiche sfruttando degli scontri ne parleremo magari in futuro che si combatterono intorno proprio alla Cecenia in altre zone del Caucaso mandarono le loro truppe che formalmente erano truppe di pace proprio per pacificare il Caucaso ma le utilizzarono per creare praticamente un vero e proprio cordone sanitario intorno alla Cecenia in questo modo cercando di isolarla completamente dal resto del mondo. La risposta di Duda gli aveva fu a tutti gli effetti quello di trasformare la Cecenia quasi in un vero e proprio paradiso criminale diciamolo apertamente vennero create ad esempio delle leggi che vietavano qualunque forma di estradizione verso uno stato che non riconoscesse la Cecenia come uno stato autonomo e dato che non la riconosceva nessuno la cosa era ovviamente non estradizione il che trasformò a tutti gli effetti la Cecenia quasi in un portofranco per organizzazioni criminali che letteralmente poterono trasformarla in una base per agire come volevano. divenne la base per un lucrosissimo commercio di armi la trono ripeto con le guerre civili e i grandi arsenali sovietici a disposizione fu un perfetto centro e addirittura anche si dice molti dei nuovi oligarchi russi iniziarono a utilizzare la Cecenia per poter lavare il proprio denaro quello che avevano acquisito in maniere non del tutto legali che poi passava attraverso la Cecenia per essere letteralmente ripulito. dato che però le pressioni economiche non funzionavano proprio per questi appoggi anche tra virgolette internazionali ma anche se non proprio degli stati la Russia decise di passare al piano successivo perché in effetti non tutta la Cecenia si era schierata al fianco di Dudayev anche se la stragrande maggioranza della popolazione infatti era comunque favorevole all'indipendenza della Cecenia non tutti erano favorevoli innanzitutto allo status ormai di dittatore di Dudayev ma soprattutto non erano favorevoli a continuare a portare avanti questo scontro tanto che nacquero tutta una serie di movimenti che poi si coagularono in una vera e propria opposizione che cercavano di prendere potere a Grozny per iniziare una discussione con la Russia che portasse progressivamente all'autonomia la Russia decise di sfruttare questi movimenti di opposizione armandoli preparandoli rifornendoli affinché facessero un lavoro sporco per lei cioè attaccassero Dudayev e lo eliminassero dopo vari tentativi di colpo di stato non andate a buon fine molto spesso questi ribelli che avevano le loro basi nella zona più a nord quindi vicino proprio alla Russia cercarono di attaccare le posizioni del presidente ma dopo una serie di attacchi di questo genere non andate a buon fine la Russia decise di passare alle maniere forti mandò propri soldati mandò i propri ufficiali che affiancheranno i ribelli ceceni per cercare di creare delle nuove unità che potessero in qualche modo rivalleggiare con l'esercito a disposizione di Dudayev rifornirono di armi non solo più armi leggere ma anche armi pesanti carri armati e addirittura assicurarono a questi movimenti di rivolta la propria copertura aerea aviazione ed elicotteri una volta rifornito questo esercito di ribelli il 26 novembre 1994 si decise di lanciare un assalto verso Grozny perché Grozny? ripeto l'obiettivo era non occupare la Cecenia in quel momento ma fare un colpo di stato che portasse al potere una fazione più vicina alla Russia certo non era una fazione che in toto era vicina alla Russia ma diciamo che all'epoca Yeltsin probabilmente bastava e avanzava piuttosto che avere Dudayev al potere questo tentato attacco però fu un totale fallimento perché nonostante avessero a disposizione le armi russe nonostante i russi avessero mandato anche una settantina qualcuno dice addirittura un centinaio dei loro uomini quell'assalto fallì e in appena due giorni Dudayev e le sue truppe riuscirono non solo a cacciare le truppe avversarie da Grozny ma praticamente quasi a cancellare completamente l'opposizione interna e addirittura a distruggere due terzi dei mezzi russi e a catturare una ventina di soldati inizialmente Yeltsin si rifiutò di riconoscere l'intervento russo disse che si trattava di una questione puramente cecena che tutti gli uomini che avevano partecipato a quell'assalto erano oppositori ceceni ma quando Dudayev si presentò in diretta televisiva mostrando 20 soldati russi catturati e minacciando di ucciderli se Yeltsin non avesse riconosciuto la presenza russa nello scontro Yeltsin fu costretto ad ammettere che la Russia in qualche modo aveva partecipato al tentato colpo di Stato la cosa peraltro per uno Stato che in quegli anni non viaggiava esattamente in buone acque la Russia negli anni 90 aveva conosciuto un crollo economico totale l'apertura al capitalismo aveva creato una deregolamentazione che aveva portato povertà disparità enorme dal punto di vista economico una corruzione che già era alta in periodo sovietico ma che poi era completamente esplosa ebbene questa piccola sconfitta divenne l'ennesimo problema per la federazione e a questo punto la Russia decise che se non poteva contare sugli oppositori interni in Cecenia sarebbe intervenuta direttamente come con un'invasione l'11 dicembre 1994 le truppe della federazione russa provenienti da varie zone confinanti tutto intorno alla Cecenia attaccarono la Cecenia stessa in realtà i russi appena dieci giorni prima avevano negato la loro volontà di invadere direttamente la Cecenia ma in realtà stavano preparando quell'attacco già da parecchie settimane ma l'attacco si dimostrò fin dall'inizio molto molto mal organizzato i russi dichiararono che sarebbe stato un attacco molto facile entro il 20 di dicembre quindi appena dieci giorni sarebbero sicuramente riusciti a occupare Grozny occupare il paese e riportarlo all'interno della federazione ma fin dall'inizio la loro avanzata si dimostrò molto molto problematica si dimostrò innanzitutto molto problematica presso l'opinione pubblica sia quella interna che quella estera ora all'epoca la stampa russa era un po' più libera rispetto a quella attuale anche a causa di una scarsa presa del governo e quindi ben presto iniziarono a circolare le immagini di quello che stava avvenendo iniziò a circolare il fatto che molto spesso Yeltsin avesse mandato a combattere dei coscritti quindi dei giovani che stavano facendo il loro periodo di leva e man mano che si accumulavano i morti la cosa fece un grosso scalpore all'interno della federazione russa dove molti pensavano che una guerra di questo tipo contro la Cecenia fosse in realtà una guerra contro altri russi che le cose devono essere condotte diversamente non sicuramente in quel modo grosso scalpore iniziò a farlo anche a livello internazionale dove fin dall'inizio molti si schierarono a favore della Cecenia che sembrava letteralmente il piccolo Davide invaso dal gigante Golia russo in realtà però il piccolo Davide non era così tanto piccolo e soprattutto fin dall'inizio darà grossissimi grattacapi ai russi che si dimenticarono completamente quella data del 20 dicembre per finire la guerra e che si impantanarono in una lenta avanzata attraverso la Cecenia diretti verso la capitale sarà un'avanzata lentissima per vari motivi innanzitutto la popolazione si schierò apertamente a favore del presidente Dudayev gran parte anche di coloro che avevano appoggiato l'opposizione di fronte all'invasione della Russia decisero di schierarsi con Dudayev è una cosa che se ci pensate un po' riverbera al giorno d'oggi in Ucraina dall'altra parte i Ceceni che peraltro erano spesso dei combattenti molto esperti che da anni combattevano anche come mercenari nelle guerre civile degli stati vicino iniziarono ad attuare una vera e propria guerriglia che anche se progressivamente retrocedeva verso la capitale verso Grozny infliggeva delle durissime perdite ai russi che persero uomini persero mezzi e soprattutto si videro esplodere un gigantesco malcontento sappiamo che l'esercito russo era letteralmente allo sbando gli ufficiali non riuscivano a mantenere l'ordine ci furono addirittura delle diserzioni di massa soldati che si rifiutarono di andare in Cecenia soldati che danneggiarono direttamente i loro mezzi sversando la benzina magari nei campi fingendoli non potersi muovere ci furono soldati che si ribellarono ai loro ufficiali e anche qua un po' come in Ucraina i russi furono costretti a mandare in avanti i loro ufficiali superiori tanto che anche i ceceni nonostante non disponessero di grossa artiglieria inizieranno a colpire uccidere o ferire molti generali russi il 22 dicembre finalmente la Russia dopo questa lente faticosissima avanzata arrivò alle porte di Grozny e il 24 la vigilia di Natale si chiama proprio offensiva della vigilia di Natale lanciò il suo primo attacco alla città questo primo attacco fu un totale fallimento i ceceni difendendosi letteralmente casa per casa riuscirono a ricacciare indietro i russi e la risposta dei russi fu quella se fino a quel momento avevano principalmente combattuto con armi leggere fu quella di passare all'artiglieria scatenando su Grozny un bombardamento devastante sia di artiglieria che utilizzando l'aviazione che qualcuno disse non si vedeva in Europa dai tempi della seconda guerra mondiale ovviamente quel bombardamento costrinse una buona parte dei ribelli ad abbandonare la città e letteralmente casa per casa con tantissime perdite i russi riuscirono a catturare tutta la città fino a quando il 19 gennaio 1995 non catturarono il palazzo presidenziale che ormai era ridotto a una gigantesca maceria fumante Dudayev però non si trovava lì insieme alle sue forze si era ritirato a sud e stava preparandosi a difendersi in un terreno decisamente più favorevole perché montuoso i russi avevano Grozny ma la Cecenia era tutt'altro che pacificata fino a questo momento la guerra era stata sanguinosa si stima che durante gli scontri a Grozny fossero morti dai 30 ai 35 mila civili le fonti russe parlano di 20 mila però questa è la cifra accettabile ma comunque anche 20 mila sono veramente tanti contando che gli scontri durarono all'incirca un mese e da questo momento in poi i morti civili andranno aumenteranno sempre di più i russi infatti nell'anno successivo non riusciranno a snidare i ribelli dalle loro tane tra virgolette e l'unica risposta che seppero dare sarà colpire la popolazione civile accusata di difendere quei ribelli letteralmente piombando nei villaggi e massacrando chiunque si trovassero davanti quello che avvenne in Cecenia durante quelle 1995 fu letteralmente un mattatoio ci furono massacri enormi come il massacro nel villaggio di Samarsky in cui in appena due giorni 103 civili che nulla avevano a che fare con i ribelli furono catturati e uccisi uno dopo l'altro e buttati in una fossa comune ci furono stupri ci furono distruzioni di abitazioni di intere cittadine che trasformarono letteralmente tutta la Cecenia in una gigantesca rovina fumante se ancora qualcuno poteva essere favorevole ai russi quel qualcuno ovviamente era scomparso a farne le spese curiosamente e purtroppo fu anche la stessa minoranza russa minoranza russa all'interno della Cecenia che fin dall'inizio degli anni 90 aveva iniziato a subire una serie di attacchi da parte della maggioranza cecena che una volta preso il potere aveva iniziato a rifarsi su quelli che fino a quel momento l'avevano detenuto ma che si trovò letteralmente presa in mezzo nel corso della guerra dato che i bombardamenti gli attacchi l'artiglieria non guardavano in faccia nessuno e anche molti della stessa minoranza russa morirono durante questi attacchi ovviamente con accuse da entrambe le parti perché mentre i ribelli ceceni accusavano i russi di essere dei massacratori i russi li accusavano di utilizzare degli scudi umani dalla metà del 95 in poi i ceceni iniziarono ad utilizzare anche altri due metodi il primo era un metodo di reclutamento venne lanciato si iniziò a parlare ufficialmente di una jihad cioè di una guerra santa da combattere da parte dei ceceni musulmani contro le forze russe che avanzavano anche se in realtà molti dei soldati russi provenivano dai territori vicini e quindi molto spesso erano musulmani anche loro ma questa jihad ha raccorse in effetti un buon appoggio tanto che arrivarono in cecenia aiuti soprattutto in uomini provenienti dai territori musulmani il secondo metodo che iniziarono a utilizzare i ceceni fu però quello del terrorismo dato che molto spesso non riuscivano ovviamente a colpire grossi obiettivi militari anche se le perdite russe continueranno ad aumentare iniziarono a cercare di colpire degli obiettivi civili dei piccoli gruppi di ceceni iniziarono a prendere d'assalto delle posizioni delle città russe all'interno del territorio russo in particolare nella parte più meridionale uno dei casi più eclatanti fu la cosiddetta cattura dell'ospedale di Budionov che avvenne a metà del 1995 e che vide un commando di ceceni di circa una trentina di uomini catturare in un ospedale un migliaio di persone e rifiutarsi di restituirli a meno che la Russia non avesse interrotto l'attacco tutti questi attacchi in territorio russo ovviamente non fecero che calare ulteriormente la fiducia nei russi della vittoria e quando il governo Yeltsin non potendo rischiare di vedere mille persone assassinate sul suo stesso territorio accettò le richieste cecene per un cessate il fuoco e accettò anche che i terroristi abbandonassero tranquillamente l'ospedale per tornare in Cecenia addirittura portandosi dietro gli undici caduti con un camion frigo ovviamente la popolazione iniziò a credere che non vi fosse più nessuna speranza in realtà nonostante i tentativi di mediazione da parte dell'ONU e dell'Unione Europea che più volte aveva chiesto alla Russia di fermarsi e di cercare una risposta mediata la guerra progressivamente nella seconda parte del 1995 e all'inizio del 1996 tornerà a riaccendersi e a farlo saranno entrambe le parti da una parte i ceceni infatti torneranno ad attaccare il 6 marzo del 1996 Grozny senza riuscire a liberarla dall'altra parte i russi nonostante i problemi aumentassero iniziavano a circolare voci sul fatto che i soldati avessero un rancio marcio fossero praticamente denutriti abbandonati senza armi insomma all'epoca giravano voci sulle condizioni dell'esercito russo terribili e all'epoca in effetti abbastanza vere ebbene nonostante questo la Russia decise di giocarsi tutto per tutto e nel maggio del 1996 decise di lanciare l'ultima grande campagna diretta verso sud prendendo il grosso delle truppe presenti in Cecenia dividendole in grosse colonne per abbandonare Grozny e snidare gli ultimi ribelli la scelta non fu esattamente molto intelligente il 6 agosto 1996 infatti 1500 ribelli ceceni entrarono in città il loro obiettivo non era ovviamente quello di catturare tutta la città anche perché erano presenti quasi 12.000 russi molto meglio armati di loro ma l'obiettivo era quello di sfruttare la paura che questi russi ripeto molto spesso dei coscritti avevano dei loro avversari avevano delle loro capacità per isolarsi appoggiati dalla popolazione che ovviamente favoriva i ribelli iniziarono a separare i vari fortini le varie fortezze le varie caserme russe isolandole l'uno dall'altra circondandoli e spingendo molto spesso i russi ad arrendersi con il risultato che dopo appena una settimana di scontri con pochissime perite in realtà da parte dei ribelli quasi 7.000 soldati russi si erano arresi ai ceceni il 19 di agosto le forze russe tornarono in città la circondarono completamente e il loro comandante ordinò ai ceceni di deporre le armi e abbandonare la città entro 48 ore o altrimenti avrebbe scatenato il fuoco dell'artigliere e dei bombardieri distruggendo completamente Grozny questo proclama rimbalzò in tutto il mondo con il risultato che ancora una volta l'ONU gli Stati Uniti l'Unione Europea intervennero per chiedere che tutto questo non avvenisse ma soprattutto rimbalzò all'interno di Grozny dove la popolazione spaventatissima iniziò a cercare di lasciare la città e molti in effetti lo faranno anche se tutti i maschi adulti verranno ricacciati indietro convinti che potessero essere in qualche modo membri della resistenza ma purtroppo molti moriranno colpiti dal primo fuoco di artiglieria che talvolta per errore o no questo ovviamente non lo sappiamo colpiva proprio questi convogli di profughi che cercavano di allontanarsi dalla città il rischio a questo punto per i russi era di ottenere una vittoria sul campo che non sarebbe però potuta essere sfruttata e portare alla pace anzi si rischiava di avere ancora un peggioramento delle relazioni internazionali per questo presidente Yeltsin decise di mandare il generale Lebed se ve lo ricordate era quello che aveva già agito in Transnistria per cercare di risolvere la situazione e l'unica cosa che Lebed fu in grado di fare fu di firmare una prima tregua un primo armistizio tra le forze russe e le forze cecene che portasse ad una tregua e permettesse alle forze cecene di riprendere il controllo di Grozny che però sarebbe stata completamente demilitarizzata ma di lasciare anche partire le forze russe questo armistizio in realtà era quello che tutti volevano anche perché ci si era ben presto reso conto che quella guerra avrebbe potuto continuare per anni e la Russia in quel momento che tra l'altro era quasi prossima al default economico non aveva nessuna possibilità di portarla avanti il risultato fu che da quell'armistizio l'anno successivo nel 1997 sarà firmato una effettiva un effettivo trattato di pace a firmarlo non fu il presidente Dudayev che era stato ucciso proprio nel 1996 dalle forze russe che l'avevano scovato e colpito con dei missili ma che era stato sostituito dal suo vice che insieme ai principali esponenti militari della resistenza cecena firmerà al cremlino il trattato che sancirà la pace tra le due nazioni sulla carta era un trattato molto generico una pace che prevedeva il ritiro delle forze russe e il ripristino della situazione pre-1994 il problema è che quella situazione era già instabile di suo perché nel 1994 i ceceni si consideravano autonomi e i russi li consideravano una provincia ribelle l'obiettivo era quello entro il 2001 di giungere una definitiva conclusione trovare una quadra diplomatica per permettere alla cecena di diventare o autonoma completamente oppure rientrare all'interno della russia non ci sarà però tempo di giungere a questa soluzione perché nel 1999 ne parleremo credo tra due puntate scoppierà la seconda guerra in cecena ma ripeto di questo ne parleremo tra due puntate perché due puntate beh perché la prima guerra di cecena non è in realtà l'unico scontro che avviene nell'area nella prossima puntata parleremo di un'altra guerra importantissima perché fa da preludio proprio la seconda guerra cecena cioè l'invasione del dagestan ne parleremo nella prossima puntata e vedremo in che modo queste tre guerre prima guerra cecena guerra del dagestan e seconda guerra di cecena si incastrano in questo puzzle purtroppo fin dall'inizio degli anni 90 come vi dicevo la cecena iniziò ad essere un vero e proprio mattatoio e di rivolta e guerra uno dopo l'altro le cose non sono migliorate neanche adesso io mi fermo qua spero che questa pidola vi sia piaciuta che sia stata abbastanza semplice nello spiegare questo complesso quadro militare diplomatico come sempre se volete riascoltare questa o altre puntate potete farlo qua sul nostro canale in descrizione ripeto c'è la playlist con questa miniserie potete ovviamente farlo anche sul nostro podcast se le trovate tutte lì anche quello in descrizione se volete consigliarmi o scrivermi direttamente delle pidole usate i nostri social facebook instagram telegram oppure la mail tutto in descrizione e per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo da fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qui a fianco c'è l'elenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pidola di storia ci vediamo settimana prossima per andare avanti con la nostra miniserie a presto ciao ciao